Raffaello Tonon senza Luca Onestini, passerà il Natale con un altro concorrente del grande fratello Vip Raffaello Tonon non passerà il Natale insieme all'amico Luca Onestini. Natale all'insegna dell'amicizia per Raffaello Tonon. Il conduttore e opinionista passerà il 25 dicembre in compagnia di amici. E non di amici qualsiasi bensì di concorrenti del grande fratello Vip. No, non stiamo parlando di Luca Onestini, il grande compagno di Tonon all'interno della casa di Cinecittà. Il vincitore della fattoria trascorrerà il Natale con Corinne Clery. A rivelarlo lo stesso Tonon in una recente intervista, dove ha raccontato di aver ricevuto un invito da parti dell'attrice francese. Un invito che ha sorpreso Raffaello e che l'ha portato subito ad accettare. Soprattutto per non ritrovarsi a passare l'ennesima festività da solo considerati i suoi rapporti tutt'altro che idilliaci con la sua famiglia. Corinne Clery ha invitato Tonon a casa sua per il 25 dicembre. Trascorrerò il Natale a casa di Corinne Clery ha annunciato Raffaello al settimanale mio. Nella casa parlavamo del Natale solitario che mi attendeva, magari in qualche meta esotica, e lei è stata così carina da invitarmi nel suo casale, dove si intratterrà con alcuni amici. . Ho accettato molto volentieri l'invito ha spiegato Tonon che nei giorni scorsi ha conosciuto anche Angelo Costabile, il compagno di Corinne. Dunque, dopo aver condiviso l'esperienza al grande fratello, la Clery e Tonon hanno mantenuto un rapporto solido che continua tutt'oggi. . Per quel giorno Raffaello dovrà separarsi da Luca Onestini che, quasi sicuramente, trascorrerà le feste natalizie in famiglia, in Emilia-Romagna. . Grande fratello Vip, gli Onestoni sempre più uniti. . Natale a parte, gli Onestoni sono sempre più uniti da quando è finito il Grande fratello Vip. . Presenziano insieme a serate, cenne e eventi importanti e sui social si mostrano affiatati e complici. . L'amicizia con Luca è stata inaspettata ed è indelebile ha assicurato Raffaello che, tra gli altri, ha stretto un legame molto forte pure con la modella cieca Ivana Mrazova. . .